Quando l'imperatore Ottone I favorì i vescovi rispetto ai conti e sottopose l'elezione papale all'assenso imperiale, diede anche origine a quella che sarebbe diventata la lotta per le investiture. Infatti dopo la creazione del privilegio di Ottone, di cui ho parlato nel video precedente, nacque nella chiesa un movimento per una nuova indipendenza della chiesa stessa rispetto all'impero. Se nei primi decenni del sacro romano impero germanico le cose funzionarono abbastanza bene, le cose cambiarono nel 1073 con l'elezione a papa di Gregorio VII, il quale era un forte sostenitore del primato papale su tutti gli altri poteri. Il papa si scontrò duramente con l'imperatore, appunto Enrico IV, e l'imperatore non l'ha prese bene, dando origine alla cosiddetta appunto lotta per le investiture. Infatti Enrico IV pretese le dimissioni di Gregorio VII, mentre Gregorio VII scomunicò l'imperatore stesso, deponendolo anche dal trono imperiale. La scomunica provocò una rivolta contro l'imperatore che fu costretto a chiedere perdono allo stesso papa e provocando una specie di scisma, di cui poi parlerò in un altro video. Lo scontro tra papa e imperatore finì solamente nel 1122 con il concordato di Worms. Il 23 settembre di quell'anno infatti Enrico V e papa Callisto II, quindi i successori dei precedenti imperatore e papa, si accordarono per far finire questa lotta. Dopo 30 anni di lotta fra impero e papato, il papa riconosceva il diritto dell'imperatore ad essere presente alle elezioni episcopali in Germania e di investire dei loro diritti di vassalli i vescovi appunto. Inoltre in Germania l'investitura feudale precedeva la consacrazione episcopale, mentre in Italia e nelle zone francesi avveniva il contrario, quindi la consacrazione episcopale precedeva l'investitura feudale. Dal canto suo invece l'imperatore rinunciava al diritto di investire i vescovi del bastone dell'anello pastorale, lasciando al papa i simboli del potere spirituale e l'elezione dei vescovi in tutte le parti dell'impero senza l'ingerenza imperiale, anche se poi sappiamo che questa cosa non sempre funzionerà. Il risultato di questo concordato fu che in Italia e in Francia i contrasti tra episcopato e imperatore erano risolti principalmente dal papa direttamente, mentre in Germania venivano gestiti con la mediezione dei vescovi che appunto erano anche vassalli dell'imperatore, cominciando in questo modo a diversificare anche le zone del cattolicesimo. Non a caso, anche se insomma non è una teoria consolidata, la parte germanica della cristianità sarà quella che darà poi vieta alla riforma protestante. Dopo Worms fu anche convocato un nuovo concilio ecumenico, tre secoli dopo l'ultimo che era stato a Costantinopoli, appunto tre secoli prima.